Il Giro del Centenario è tornato a gratificare Chieti, dove a 100 anni esatti dalla pioneristica tappa partita da Bologna, nella prima edizione del Giro d'Italia, la Carovana Rosa il prossimo 27 maggio si prepara a scrivere un'altra pagina indelebile nella storia del ciclismo in Abruzzo. La Chieti Blockhouse non sarà una tappa come tutte le altre, ma si trasformerà in un evento del tutto particolare, intanto perché sarà preceduta dal giorno di riposo, martedì 26, con la permanenza in città di tutta la Carovana per ben due giorni, e poi per le caratteristiche tecniche, soli 79 chilometri e arriva in quota su quel blockhouse, dove nel 72 Fuentes, in una tappa lampo analoga, inflisse ben 4 minuti alla Cannibale Eddie Berks. A differenza che nell'impostazione tradizionale poi, questa tappa appenninica è stata inserita nella parte finale del Giro del Centenario, e sarà dunque decisiva per una classifica generale, per la quale si sfideranno Armstrong, al ritorno alle corse con un'attesa mediatica planetaria, Evans, Sastre, Basso, Cunego e naturalmente il nostro Danilo Di Luca. Una vetrina imperdibile per la città di Chieti, si è ripetuto stamani nella conferenza stampa dei 100 giorni dall'ora X. Il comitato tappa presieduto da Maurizio Formichetti ha incontrato stamani anche il commissario dei giochi del Mediterraneo, Mario Pescante, per stabilire una sinergia con l'altro grande evento, che inizierà esattamente un mese dopo. Mobilitate le associazioni dei commercianti e degli artigiani, tutte le vetrine della città a maggio saranno in rosa, in un concorso la cui premiazione avverrà durante la Notte Rosa del 26 maggio, evento sul quale si è concentrata l'organizzazione della provincia con eventi musicali, ci sarà tra gli altri Piero Mazzocchetti accompagnato dall'Orchestra del Marucino, e campi sportivi all'aperto, mostre storiche sul ciclismo e convegni. In programma anche un concorso scolastico ed una lotteria, il cui primo premio è la bici sulla quale correrà quest'anno il giro Danilo Di Luca.